Non si ferma la corsa dei prezzi della benzina, anzi, in concomitanza con gli spostamenti di migliaia di vacanzieri risultano lievitati, soprattutto lungo alcuni tratti autostradali dove le soste sono obbligate. Dall'inizio della stagione estiva c'è stata una continua altalena a frenare, in parte la volata, l'obbligo per i distributori, imposto dal governo, di mostrare il prezzo medio regionale, che rappresenta soprattutto un avviso per automobilisti ed autotrasportatori affinché possano scegliere al meglio. In autostrada ed in modalità self la benzina ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato ad 1,92 euro. Il caso più emblematico è quello del distributore villoresi sulla 8 Milano Barese, che in modalità self arriva a far pagare un litro di benzina più di 2,70 euro. Un pieno può costare fino a 136 euro, si mobilita su utenti, che ha chiesto controlli immediati. Un ferragosto da shock, la benzina quasi vicina ai 3 euro è una cosa inaudita, per questo abbiamo fatto un esposto alla Guardia di Finanza e ora di indagare profondamente che cosa sta succedendo perché crediamo ci sia molta speculazione. E l'area di servizio in questione non è purtroppo l'unica a praticare tariffe smisurate.